voi non state bene voi non state per niente bene c'è voglio non esiste in nessun mondo su nessuna faccia della terra c'è voglio sarà una lunga estate sarà una lunga 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 estate fatemi salutare olo hermanito sono gia set quello che tiene le tette le racchette le lavagnette le rocchette e non le manette perché non ho le mitragliette da anche la intro più cringe e meno divertente di tutta youtube italia e benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo del possibile nuovo allenatore del napoli ragazzi parliamo di giampiero casperini il solo pensiero mi fa ribollire il sangue mi farà brividire tutte le cose brutte che mi possono succedere mi succedono la cosa la cosa che mi tranquillizza è che la notizia di ciro venerato ciro venerato è celebremente diciamo una macchietta per quanto riguarda le notizie che veramente non è in allenatori ci ha preso a volte sugli allenatori ci ha preso con gattuso ci prese sono ero di ancelotti con spalletti eccetera eccetera però viene da dire come direbbe luciano spalletti quello bravo è quello che dice che domani alle 14 piove e poi piove se tu dici domani piove e c'è sole dopo domani piove e c'è il sole dopo domani piove e c'è sole il giorno dopo ancora piove e c'è il sole poi prima o poi dopo qualche mese la indovinerai la notizia e diciamo che spalletti questa cosa mi pare era era all'inter quando fece questo discorso perfetto discorso che fila in maniera eccelsa in ogni caso ciro venerato a calcio napoli 24 de laurentis sembra aver scelto gasperini accordo biennale e cifre dello stipendio deciso anche il modulo addirittura è stato già deciso il modulo gasperini napoli ritorno di fiamma secondo l'esperto mercato rai ciro venerato della ciro venerato dell'aurentis avrebbe scelto il tecnico dell'atalanta gasperini nuovo allenatore napoli annuncio venerato possibile svolta tecnica aurelio dell'aurentis sembra aver scelto giampiero gasperini posso dire come che cazzo di notizia è sembra aver scelto cioè se tu dai i dettagli dell'accordo e tu poi dici sembra aver scelto proprio una scommessa cioè tu non stai dando una notizia stai scommettendo sulla tua impressione in ogni caso biennale da quattro milioni di euro netti a stagione a gasperini voglio a gasperini quattro milioni di euro ma piglia mettici un milione in più qualcuno un due in più veramente il padre terro degli allenatori ma pure qualcuno in meno ma veramente ragazzi sono tutti meglio di gasperini sono tutti meglio di gasperini dal primo all'ultimo sono tutti meglio di gasperini 3 4 3 il modulo scelto dal molto probabile nuovo tecnico partenopeo a bergamo potrebbe sostituirlo ivan yuric del torino ma boh è pur meglio yuric tra l'altro di gasperini secondo me l'esperto di calcio mercato ciro venerato durante la domenica sportiva sui canali rai ha rilanciato la notizia che luciano spalletti non sarà più allenatore del napoli praticamente che ha fatto ciro venerato ha seguito le ultime notizie e ha tratto le sue conclusioni i legali di luciano spalletti invieranno la lettera di dimissioni alla società luciano spalletti dal 5 giugno non sarà più l'allenatore del napoli entro quella data i suoi legali invieranno lettere di dimissioni all'SSC napoli rifiutando di sottoscrivere l'opzione unilaterale de laurentis che auspicava un ultimo vertice dopo la famosa cena via chiaia accetterà le dimissioni ma molto probabilmente chiederà al tecnico di restare fermo un anno per evitare sgradite sorprese spalletti sarebbe pronto all'anno sabbatico de laurenti sperava ancora nel colpo di coda non a caso non aveva affondato con nessun candidato perché riteneva ancora possibile un pass in tiro al tecnico di scatto che non c'è stato ragazzi spalletti se ne vuole andare è una decisione che bisogna accettare noi dobbiamo rispettare la sua decisione spalletti può fare quello che cazzo vuole lui quello che cazzo vuole lui però ragazzi tutti i nomi che sono stati fatti tutti i nomi che sono stati fatti sarebbero meglio di giampiero gasperi tutti tutti quante volte ragazzi vi ho parlato di dna quante volte vi ho parlato di essere in grado di stare in una certa piazza quante volte vi ho parlato ma perché ma perché mannaggia alla miseria mannaggia ma voi non mi dovete dare fastidio io sto parlando di gasperini voi non mi dovete impastidire mentre io parlo di gasperini mannaggia la miseria io già sono orbu se vuoi parlare cioè che già parlai chi sta fu mi chiamato voi mi dovete dare vi dovete lasciare stare mi dovete lasciare stare per sempre mannaggia alla miseria mannaggia alla miseria in ogni caso ragazzi altro surso che qua mi sto nervosendo giampiero gasperini sarebbe sbagliato sotto tutti i punti di vista perché se proprio devi intraprendere quella strada tanto vale ti vai a prendere antonio conte che almeno ti stai prendendo antonio conte e no giampiero gasperini ragazzi no giampiero gasperini mannaggia alla miseria allora per mille motivi io non vorrei mai giampiero gasperini giampiero a napoli uno è una persona che non rappresenta per niente il popolo napoletano che non ha nulla a che vedere con noi ci sono sempre stati screzi ci ha sempre schifato si è sempre visto io lo vedo come io poi non sono nessuno per dirlo ma dalle sue dichiarazioni mi sembra una persona razzista mi sembra una persona che ma non solo verso verso il sud eccetera 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 però una persona rimasta negli anni 50 o io un qualcosa di imbarazzante le dichiarazioni che fa quello che dice è indietro anni luce è indietro anni luce noi a napoli non ci possiamo permettere gente del genere ma fosse solo quello il problema fosse solo quello il problema giampiero gasperini sarebbe un downgrade sarebbe un passo indietro enorme dal punto di vista tattico perché tu passeresti una difesa a 3 la difesa a 3 e quindi non solo vai a mettere in difficoltà i tuoi attaccanti perché chi lo sa 3 5 2 3 4 1 2 3 4 2 1 cosa vuole fare ma la differenza il fatto che tu giochi come alla sinistra come alla destra non significa il fatto che il ruolo non cambi non significa che l'interpretazione non cambi tu così metti in difficoltà tutti lo botta ragazzi in un modulo del genere potrebbe andare in difficoltà stessa ovviamente i giocatori forti ragazzi sono sempre forti però devi metterli in condizione di far bene devi praticamente stravolgere la squadra perché devi comprare altri due centrali no sì altri due centrali devi comprare almeno altri due centrali perché se tu giochi con la difesa a 3 devi avere 6 centrali devi avere 6 centrali 6 6 no no 4 6 è così che funziona la difesa a 3 ragazzi è una cosa folle per noi ma ripeto sarebbe downgrade dal punto di vista tattico dal punto di vista mentale perché siamo abbiamo avviato un processo di crescita un tipo il napoli nel dna non ce l'ha ste robe qua e poi sarebbe un downgrade gigante dal punto di vista del rapporto con la piazza il rapporto società piazza che si stava finalmente riavvicinando che si sta finalmente riavvicinando il napoli napoli e la società non sono mai stati così vicini non ci sono mai stati così tanti passi verso il popolo di napoli e non si può non si può fare una roba del genere è l'unico allenatore che veramente questo bisogna dirlo unirebbe tutti i napoletani perché nessuno lo vorrebbe nessuno vorrebbe gasperini nessuno non c'è un tifoso napoletano che vorrebbe gasperini non ce n'è uno e non si può partire in questa maniera può vincere quello che vuole lui non ha nulla a che vedere nulla a che vedere con lui poi magari vieni vince lo scudetto la champions league che gli vuoi vieni ma non c'entra nulla non c'entra nulla sarebbe una cazzata gigantesca una cazzata mega galattica secondo me una cazzata inammissibile detto ciò ragazzi mi raccomando fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale a tra tutti quelli che sono detto meglio di agomotta meglio pallavino meglio italiano meglio meglio lo stesso benitez meglio conte meglio ovviamente inutile dirlo lui se riga neggelsmann eccetera 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 ma no gasperini fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale in descrizione troverete facebook instagram twitter tutto quello che volete sarà lì giù troverete anche il g7 shorts il mio canale obbligo teleclippo anticonici momenti divertenti del canale tiktok preferiti noi ci vediamo la prossima volta sempre comunque tutta la forza napoli